Buonasera, ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho la piacere di ospitare quest'oggi un medagliato olimpico della specialità del canottaggio Romano Battisti. Buonasera Romano. Buonasera. È un piacere averti ospite, è un piacere per noi ospitare voi campioni di sport acquatici qui nella nostra località. Presumo vi troviate bene? Sì, molto, anche perché io sono molto affezionato di Rivigno. Ci vengo qui ormai da più di dieci anni, ho iniziato a sciare su queste piste. Sono stato uno dei primi atleti di canottaggio della Nazionale Italiana che è venuto qui ad allenarsi nel lontano 2006-2007, quindi ce l'ho un po' nel cuore questa cittadina. Mi accennavi Romano a microfoni spenti, molto spesso anche d'inverno ci vieni con la famiglia a sciare per divertimento, insomma ti piace veramente? Sì, no, ci vengo volentieri anche se non è molto vicino da casa mia perché io sono di Sabbatia e ogni anno arrivare qui sono più di dieci ore, ma una volta arrivato poi ecco mi sento proprio in un paradiso, rincontro tutti quanti gli amici che ho lasciato l'anno prima, quindi ci vengo volentieri. Attualmente siamo nel mese di luglio, ti trovi qui in raduno con la Nazionale, che cosa state preparando nello specifico? Quest'anno il nostro direttore tecnico Franco Cattaneo ha scelto questa località per prepararci per l'Europeo di Glasgow che ci sarà tra qualche giorno e la prima settimana di agosto. E poi subito dopo l'Europeo abbiamo un altro ritiro di un mese a Piediruco dove c'è il nostro centro nazionale, dove ci prepareremo per il Mondiale che si terrà a settembre in Bulgaria. Ogni anno per voi europeo e mondiale? Sì, noi durante la nostra preparazione per quanto riguarda le gare internazionali abbiamo tre gare di Coppa del Mondo, ne scegliamo due perché poi dobbiamo fare anche l'Europeo tutti gli anni e quindi è il nostro direttore tecnico che decide se fare la prima, la seconda o la terza e poi ogni anno abbiamo l'Europeo e conclude la stagione poi il Mondiale. Per te Romano diverse medaglie tra europei e mondiali ma quella che spicca maggiormente ovviamente è l'argento ottenuto a Londra nel 2012, che ricordo hai di quale esperienza? Beh, ancora oggi quando penso a Londra mi viene un po' la pelle d'oca perché venivamo da un'annata molto difficile, facevamo parte della nazionale, eravamo stati fatti fuori dai giochi, ci siamo messi lì io e il mio compagno di barca Alessio Sartori e il mio allenatore di club Le Fiamme Gialle, ci siamo messi lì a lavorare e soprattutto grazie alle Fiamme Gialle che ci hanno dato la possibilità di avere una seconda federazione, di lavorare con strumenti giusti che ci servivano per raggiungere un po' di olimpico, siamo riusciti a prendere la medaglia, poi ti lascio immaginare il casino che è successo dopo perché... Era un po' inaspettata? Sì, ti dico solo che eravamo quotati a 0,71, quindi non so... E chi ha puntato su di voi certamente avrà fatto una fortuna. Io prima di partire sono andato a vedere quanto ero quotato, ho detto cavolo, sono quotato a 0,71 vuol dire che hanno visto che non vincerò mai, cerchiamo di farli ricredere un po'. Certo, devi smentire il pronostico. Chi vinse? Ecco, vinsero i neozelandesi, infatti ancora oggi porto dentro quella rabbia perché mi hanno tolto proprio la medaglia d'oro gli ultimi 100 metri, perché la mia tattica, ti devo dire, io quando sono entrato in finale non mi aspettavo nemmeno di vincere la medaglia. Ci credevo, ci avevo lavorato, era il mio sogno, quindi ero pronto a dare tutto me stesso per salire sul gradino più alto del podio. Solo che... e poi c'era il mio compagno di barca, Alessio Sartori, che già di medaglia ne aveva prese, era la sua quinta Olimpiadi, quindi io mi affidavo ciecamente a lui. Quindi mi continuavo a dire durante le gare di qualificazione per la finale, Romano stai sereno, farmi entrare in finale poi ci penso io. Quindi tu quasi ti penso di remare. Quindi io in finale ero tranquillo perché stavo in barca con un grande campione, già campione olimpico, già medaglia di bronzo nel 2 di coppia, la specialità che stavamo facendo. Si era preparato con me, ci conoscevamo benissimo, sapevamo tutti quanti i nostri valori, quindi sono andato lì in gara tranquillo. E ho usato. Di solito ho fatto io la strategia di gara. Di solito in una gara di canottaggio la chiusura avviene gli ultimi 250 metri. Io davanti al mio allenatore, prima di scendere in acqua, gli dissi ad Alessio e al mio allenatore, guarda, la tattica di gara è questa. Io parto, cerco di prendere la velocità del gruppo, a mille metri, cioè a metà del percorso, perché noi le gare si fanno su 2000 metri, io faccio la chiusura. Questi mi guardano un po' con gli occhi sgranati e mi fanno, ma sei sicuro di voler fare la chiusura? Sì, perché io ai mille metri devo iniziare a chiudere. La chiusura che cosa vuol dire? Aumentare il ritmo? Aumentare il ritmo per arrivare allo sprint finale, ma mancano ancora tre minuti. Certo. Quindi più remate, più colpi. Più colpi, sì. Infatti sono salito, la velocità è salita dal terzo quarti che eravamo, siamo schizzati subito in prima posizione, ai mille e cinque siamo passati i primi, e poi quando mancavano 100 metri si è fatta sotto la Nuova Zelanda, che era quarta e da lì a poco ci ha sorpassato, ma veniva sotto con una velocità pazzesca che non mi sono nemmeno reso conto, perché a occhio pensavo di poter chiudere la gara in testa anche se mi venivano in una velocità maggiore, ma alla fine non ho fatto bene i conti. Per quanto scarto argento? È un secondo scarso. Chi dei due ha il compito di controllare gli avversari? Beh, non si usa tanto controllare l'avversario, perché noi in gara non ci giriamo quasi mai, ma riusciamo a percepire dai rumori e con la coda dell'occhio dove sono i nostri avversari. Poi ti puoi anche girare per vedere, ma preferisci stare concentrato sul tuo ritmo, sulla tua barca. Chiaramente quello che sta dietro si accorge prima di quello che sta avanti, però il ritmo lo fa sempre quello che sta avanti, e poi qualcosa riusciamo a comunicare, cioè vai, parti, aspetta, chiudiamo, cioè qualcosa riusciamo anche quando siamo così con il cuore in gola e a tutta a dire qualcosa per sincronizzarci. E quindi in quegli ultimi cento metri che cosa sei riuscito a dire a tuo compagno? Eh, poco. Perché... Tante parole? No, 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 assolutamente niente. Poi ecco, anche il secondo posto poi è stata una bellissima festa, perché c'era lì insieme a mia mamma, mia moglie e tanti altri amici, mia figlia che aveva appena un mese. Quindi aveva il pass, ancora ce l'ho a casa, un po' mi emoziona questa cosa. Il pass è il pass della persona più piccola di casa Italia. Davvero? Beh, è stata la più piccola di tutte le Olimpiade, presumibilmente. Sì, poi ecco, un'altra cosa molto bella che ricordo molto volentieri è mia moglie che girava per il campo con una carrozzina stile vintage, con i colori della bandiera dell'Italia, che mi era stata regalata da un'azienda che fa materiale per i bambini, perché andavo all'Olimpiade e allora mi hanno regalato questa carrozzina e ti devo dire che le persone si fermavano per farsi la foto e è una cosa che ricordo molto volentieri e conservo a casa molto gelosamente. Ci credo. Quindi Romano, sei passato nel giro di un mese dall'oro della nascita di tua figlia all'argento olimpico. Insomma, è stato un mese memorabile. Beh, sì, è stato un anno veramente molto ricco di emozioni. Poi in quel periodo tutti quanti mi dicevano, perché sai, quando prendi una medaglia all'Olimpiadi ti senti Dio sceso in terra, cioè cammini 5 metri da terra. E tutti quanti mi dicevano, guarda che la medaglia non è quella che porti al collo, la medaglia è tua figlia. È vero. Io lì, lì per lì, ancora non mi rendevo conto della cosa, ma dopo qualche mese che sono rientrato in me stesso, ho iniziato a capire veramente che, sì, la medaglia è bella, tutto quanto, però poi c'è la vita di tutti i giorni, ecco, è la mia famiglia e quindi è molto più importante. Romano, ho letto che tua moglie Sara ti ha fatto un bello scherzetto di rientro da Londra. Le voci girano con la medaglia. No, io dico, cioè, certe cose lo sanno tutti, cioè non capisco dove l'hai presa questa notizia, comunque sì, è molto divertente. Io, allora, mettiamo in chiaro una cosa, sono uno che ama scherzare, faccio gli scherzi a tutti, da mia moglie, a mio padre, ai miei amici, al mio direttore tecnico, a chiunque vive i momenti che vive insieme a me e passa il tempo con me. Da mia moglie non avevo mai ricevuto uno scherzo e nemmeno mi aspettavo che la sera stessa che sono tornato a casa da Londra, dentro casa, mi è sparita la medaglia olimpica. Io mi sono, fino alla sera prima, perché poi dopo non sono tornato subito a casa, sono stato due giorni a Londra, fino alla sera prima dormivo in albergo con la medaglia al collo, sono tornato a casa, lascio la medaglia sul comodino, poi ti lascio immaginare che feste, brindisi, non sono rientrato a casa molto lucido per ricordarmi dove l'avevo messa. Al collo non c'era? Al collo non c'era, mi sveglio la mattina sul comodino neanche e mi sono fatto un attimo prendere un po' dall'ansia perché ho cominciato a girare per casa ma questa medaglia non uscìa. Mia moglie mi diceva che non l'aveva vista, ha iniziato a preoccuparsi anche lei e quando ha visto che stavo prendendo il telefono per chiamare i carabinieri che volevo fare una denuncia, mi ha detto fermati che ti ho fatto uno scherzo e lì ho detto no, ti sei vendicata alla grande. Alla grande direi. E allora dove la tieni quella bella medaglia? Adesso guarda, ti devo dire, ce l'ho chiusa dentro la sua scatolina da qualche parte che sta mia moglie perché nemmeno lo so, ecco quando la cerco che voglio farla vedere a qualcuno così chiedo a lei e per me poi quando ci ho ripensato ho fatto sì, mi avranno anche rubato la medaglia. Però io la medaglia l'ho vinta lo stesso. Ma io quante foto c'ho che ho preso la medaglia all'Olimpiadi. Cioè per me è più importante la foto adesso che rivedere la foto che andare a rivedere la medaglia. Quindi ho detto va bene, mi avranno preso la medaglia. Ma sicuramente però le tue bambine Ilavinia e Lara potranno vedere le foto della tua medaglia. Quindi tranquillo a casa, sei tu il vice campione olimpico. Che rapporto hai con le tue bambine Romano? Bellissimo. Ecco, mia figlia Lara è ancora qualche, ha appena fatto un anno quindi ancora deve cominciare a interagire un po' di più con me ma soprattutto con quello che faccio. mia figlia Lavigna invece mi segue alla grande da Londra come avevamo detto e si è offesa molto perché a Rio la mamma ha preferito lasciarla a casa quindi ancora ce lo ricorda a me a Rio non mi avete portato. E poi niente, ama molto lo sport, fa gine, adesso frequenta i corsi di ginnastica ritmica mi sta distruggendo casa con il cerchio Ah, il famoso Ula-Oppa che me... infatti la mamma non sa più come fare perché poi in giardino non vuole giocare, gioca sempre dentro casa questo cerchio che gira dentro casa che ogni tanto lo vedo che mi passa un centimetro dalla testa però è così, cosa dobbiamo fare? Ti brillano gli occhi è veramente una... sembravo papà, presumo. Romano, ce lo conti? Com'è cominciato con il canottaggio? Io ho iniziato a praticare questo sport perché cercavo qualcosa dove... uno sport dove potevo esprimermi meglio. I miei genitori mi hanno sempre permesso di fare tanta attività fisica e era importantissimo è stato importantissimo durante la mia vita da bambino praticare sport. Ho iniziato dal nuoto alla scuola calcio al ciclismo con mio padre che mi seguiva tutti i giorni facendomi fare anche 30-40 km al giorno all'età di 11-12 anni poi ho iniziato a giocare a basket. L'attezza è dalla tua parte tra l'altro. Sì ma sono molto scordinato quindi avevo capito subito che ero molto attratto perché era uno sport che mi piace tuttora però essendo scordinato vedevo gli altri che giocavano molto bene io ero un po' arrugginito nei movimenti dicevo ma c'è qualcosa che non va e da lì mentre giocava a basket c'era un ragazzo che veniva a scuola con me che aveva appena iniziato a praticare canoa. Io vengo da un paese dove non si pratica il canottaggio a 30 km da Sabadia la città dove vivo tuttora e questo ragazzo ha iniziato a praticare canoa io sono molto curioso e quindi ho iniziato a fargli domande ma che se dove vai il pomeriggio cosa fai ma com'è come non è affatto senti guarda se proprio vuoi venire a vedere un giorno vieni con me vedi poi ti informi fai. Da lì a poco abbiamo iniziato a viaggiare insieme perché potevo scegliere tra la canoa e il canottaggio e vista l'altezza mi hanno consigliato il canottaggio perché i tre di più alti cercano il canottaggio quindi mi hanno consigliato di praticare questo sport mi sono appassionato ho iniziato la mia avventura e da lì piano 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 inciampando tante volte rialzandomi tante volte perché è bello raccontare le storie quando si vincono le medaglie olimpiche ma io penso dietro a ogni atleta ci sono centinaia di sconfitte che tutti i giorni ti si presentano e devi reagire per cercare di raggiungere il tuo obiettivo se è veramente il tuo obiettivo e te ne accorgi quando cadi e ti rialzi sempre la mia fortuna è che ho iniziato a praticare il canottaggio già a un'età un po' avanzata intorno ai 15 anni i ragazzi di solito iniziano ai 10 anni quindi io mi sono ritrovato a 18 anni nella squadra junior stata nazionale alla mia prima esperienza internazionale e non ero un talento non ero nemmeno forte e da lì piano piano ho iniziato a costruire l'atleta che sono nella mia carriera mi sono tolto tante soddisfazioni però ho perso anche tante volte tante volte mi sono sentito dire che il canottaggio non faceva per me che non avrei mai vinto un mondiale che non sarei mai non avrei mai partecipato alle olimpiadi e più di qualcuno a volte mi ha anche consiglia di smettere purtroppo ecco già da bambine già da bambino ero famoso in famiglia perché ero di testa dura certo infatti la mia maestra di italiano mi diceva sempre perché il padrono della mia città Priverno il padrono è Sant'Omaso d'Aquino c'è il detto al nostro paese che sei duro come Sant'Omaso di Coccio e lei mi diceva sempre Romano Sant'Omaso a Priverno viene una volta all'anno in testa a te e sempre quindi beh quella cociutaggine che ti ha portato poi sul podio olimpico e mondiale diciamoci la verità io penso ecco che la determinazione è stata una delle cose che mi ha portato a raggiungere i miei obiettivi hai cambiato più volte imbarcazioni insomma le hai provate un po' tutte ce le ricordi e quale ti è rimasta più nel cuore quale magari vorrai anche cambiare in un futuro chissà mai sì ho iniziato per quanto riguarda le imbarcazioni parliamo sempre a livello internazionale perché poi a livello nazionale uno si diverte fa tante specialità con il club a livello internazionale ho iniziato da junior sull'otto devo dirti che l'otto è la barca regina del canottaggio perché sta in barca con altri otto ragazzi perché sono otto rematori più un timoniere quindi sei come una squadra da calcetto certo è molto bello poi lavorare insieme perché si lavora in gruppo solo ecco è sì la barca regina del canottaggio ma è anche la barca più difficile perché tutto il mondo vuole vincere con la specialità mi ritengo attualmente un atleta specializzato nel due di coppia perché ormai ho fatto cinque anni di fila ai mondiali e due olimpiadi su questa imbarcazione la sento mia perché è una barca dove ancora all'età di 32 anni riesco a difendermi con i ragazzi di 20 e con i ragazzi più forti della squadra però devo dirti che non ho problemi a fare altre imbarcazioni tipo il 4 di coppia tipo il 2 senza che è la specialità solo con un remo da un lato e anche l'8 perché sono uno un po' che ha un po' di spirito di gruppo quindi mi piace stare in mezzo al casino e lo farei volentieri ma nell'8 se ce n'è uno che un giorno non ha tanta voglia di remare ci si accorge vi accorgete nel gruppo assolutamente lo buttiamo subito in acqua subito sì nell'8 diciamo è la barca dove riesce a imboscarti più facilmente cioè volevi arrivare a questo ho capito però poi sta alla mordurità dell'atleta perché in una barca dove ci sono nove persone che vogliono raggiungere un obiettivo importante può capitare ma può capitare perché la giornata dove siamo più stanchi ce l'abbiamo tutti tra compagni ci si aiuta perché siamo tutti nella stessa barca quindi può capitare che oggi devo dare più per mantenere per sostenerti domani sarai tu che mi dovrai sostenere quando raggiungeremo il nostro picco di forma queste sono cose che ti fanno sentire anche le spalle coperte perché dici cavolo sono in una barca dove nessuno mi lascerà mai perdere mi lascerà mai indietro quindi sei disposta a dare tutto in base allo stato di forma ci sono le posizioni strategiche in barca e parlo sempre di un otto sì non tanto lo stato di forma ma alla caratteristica dell'atleta di solito un otto viene formato da il motore della barca che sono i quattro atleti centrali e devono essere i quattro atleti fisiologicamente più forti poi la coda dell'otto il sette e l'otto di solito sono gli atleti che sanno remare meglio che sanno tenere la barca in equilibrio perché anche l'otto va tenuto in equilibrio e per tenere in equilibrio otto persone non è molto semplice se hai un sette e l'otto che sanno remare bene sanno far staccare bene la barca tutto diventa più semplice i primi due invece il primo posto c'è il capovoca che è quello che fa il ritmo che oltre ad avere a saper remare molto bene deve avere anche una palata lunga e far remare comodo per far remare comodo di tutto quanto il resto dell'equipaggio e poi il due più o meno deve avere le stesse caratteristiche dell'uno solo che è un vice capovoca ma se il due di turno è in uno stato di grazia veramente eccezionale e magari può subentrare al posto dei quattro centrali che formano il motore potete cambiarvi di gara in gara oppure i posti sono assegnati e quelli rimangono no i posti si possono cambiare di gara in gara anche durante la gara cioè durante la batteria la semifinale poi ti puoi cambiare quello non è un problema di solito quando ci si prepara per un mondiale già si fanno tutte le prove quindi già sai quando è il momento di fare un cambio e cerchi di non farlo e di restare sempre compatto deve essere proprio un'emergenza domanda da neofita ma sono curiosa come ti ho già detto come vengono trasportate le imbarcazioni quando fate le trasferte transoceaniche le trasferte dipende di solito via nave vengono caricate dentro dei container che poi fanno tutte le quattro attraversate e ci si organizza sempre almeno due o tre mesi prima perché di solito una barca un container per fare tutta quanta la tratta oceanica impiega quasi un mese quindi ti organizzi per stare preciso tutto quanto cerchi sempre di mandarlo un po' prima perché vai sempre per il mare e ci si organizza sempre due o tre mesi prima quindi voi avete le imbarcazioni da gara e quelle d'allenamento assolutamente e c'è differenza tra le due? diciamo che cerchiamo di avere sempre la stessa barca al millimetro poi chiaramente ci si adatta io mi ricordo l'anno che l'ultima volta che ho fatto il doppio quindi alle Olimpiadi di Rio avevamo a disposizione cinque imbarcazioni tre sempre al centro federale e le altre due le spostavamo per fare le gare per fare gli allenamenti tipo i raduni da una parte e quanto altro però ecco devi sempre avere la barca da gara il muletto i remi da gara i remi da gara poi alla fine puoi anche utilizzare i remi di allenamento li puoi utilizzare in gara la barca d'allenamento la puoi utilizzare in gara però ecco quando trovi una barca vincente io sono sempre un po' geloso capito cerco sempre di farla durare più a lungo però Romano sarà già capitato purtroppo viaggio lunghissimo aprite il container la barca ha qualche rottura qualche guasto sarà già capitato beh certo poi lì noi quando facciamo le gare nel punto dove gareggiamo vengono viene proprio il cantiere che costruisce le barche con lo stand e lui fa la manutenzione a tutti quanti quelli che hanno bisogno e sono pronti a riparare qualsiasi guasto in poco tempo tra due anni Romano Tokyo 2020 bene eccoci tra due anni possiamo anche dire ormai tra quasi 24 mesi hai ragione perché il mio direttore tecnico mi ha insegnato a contarli così sono un po' amareggiato perché avrei preferito farla in casa quest'Olimpiadi Roma 2020 suonava bene suonava meglio però adesso ci stiamo preparando per questa avventura ho la mia età sono uno dei più vecchi della squadra quindi come dice il mio allenatore di club cerca di pensare anno per anno per poi arrivare perché adesso i progetti non puoi farli più 4 anni per 4 anni cerca di pensare a quello che succede anno per anno e poi vediamo già da quest'anno l'anno prossimo quello che sarà dove saremo e per cosa staremo lottando noi sicuramente ti faremo Italia un bocca al lupo dita incrociata grazie Romano grazie mille grazie a tutti è tutto per questa sera grazie per la cortesia attenzione vi rimando a mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti grazie a tutti